Una volta Urgada era una destinazione per vacanze da sogno sul Mar Rosso. Oggi l'Egitto è nel caos e i turisti occidentali disertano villaggi e resort. Economia che non si è mai ripresa dalla caduta del regime Mubarak perde una risorsa importante, pari all'11% del prodotto interno lordo, eppure i rari turisti sembrano contenti. Tutto è molto bello, il posto è davvero magnifico, l'albergo è eccellente e anche la spiaggia. Il Mar Rosso è meraviglioso, sono felice di essere qui. L'allarme economico è tale che il locale ministro del turismo, Isham Zazu, ha lanciato un accorato appello ai paesi europei perché aiutino il popolo egiziano attraverso il turismo, cancellando gli avvisi che sconsigliano i viaggi nel paese. Il ministro assicura che sul Mar Rosso non ci sono problemi. Venendo in queste aree, Urgada, il Mar Rosso, il Sinai meridionale, i turisti sono a centinaia di chilometri dalle zone calde intorno al Cairo. I nostri ospiti possono constatare di persona che qui sono al sicuro. Il governo sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per preservare il benessere dei turisti che visitano l'Egitto. Fatto sta però che le spiagge quest'anno sono semivuote, molte compagnie aeree hanno cancellato i voli turistici per l'Egitto e i governi continuano a mettere in guardia i propri cittadini. Il declino delle località turistiche egiziane è evidente. Le autorità cercano di compensare il mancato afflusso di stranieri favorendo il turismo interno. La speranza è che tutto torni come è meglio di prima, una volta che il paese sarà di nuovo stabile. Grazie a tutti.